In questa puntata, Economia, le strategie in Toscana. Coltano, sì, ha soluzioni negoziate. Difensore civico toscano, attività 2021. Libri, un mondo aperto per una buona politica. Monitoraggio periodico dell'economia regionale, una task force dedicata a strategie per l'occupazione, l'efficientamento energetico, l'agricoltura e per il sostegno ai più colpiti. È questa in sintesi la ricetta proposta dal Consiglio regionale per fronteggiare le conseguenze del conflitto russo-ucraino per la Toscana. La Consiglia Sozzi parla di temi importantissimi, l'autosufficienza energetica, la tutela della filiera agroalimentare, l'utilizzo dell'energia rinnovabile in Toscana. Tutto molto bello e tutto molto utile. Abbiamo chiesto soltanto una cosa, di inserire due righe che trasformassero questo bellissimo, l'ennesimo bellissimo libro dei sogni in qualcosa di attuale. Perché tutto questo è attuabile, la difesa della filiera corta, dell'agroalimentare toscano, il raggiungimento dell'autonomia energetica. Tutto è raggiungibile se e solo se l'Italia, insieme agli altri paesi europei, perché il tema riguarda tutti, riescono a ricontrattare il PNRR. Perché o nel PNRR si riesce a inserire anche per esempio il tema dell'autosufficienza energetica, oppure questo resta un libro dei sogni. Sì, è stata una mozione realistica e quindi il Partito Democratico non poteva che condividerla e sottoscriverla, perché presenta tutti i rischi, tutte le situazioni che abbiamo, i problemi che sono in questo momento presenti, ben noti, dal problema occupazionale che sta mettendo in gioco questa guerra, dal momento che abbiamo molte realtà aziendali purtroppo ferme per la mancanza di materie prime, il problema dell'esport, quindi poi tutto perché sappiamo quanto è importante per le nostre realtà produttive, dalla moda e non solo l'esportazione, quindi problemi collegati all'esport. E insomma tutta una serie di situazioni di cui se ne prende atto, sono nella narrativa, e quindi nonostante tutti questi importanti provvedimenti del Governo, chiediamo qualche cosa in più alla nostra Giunta, alla nostra Regione, e non si possono ne condividere. E gli interventi più importanti è di prendere atto del grande lavoro che fa IRPET Toscana, e abbiamo sentito il seminario che è stato proposto, il convegno, il 28 di aprile, che ci propone una fotografia attuale della situazione. È chiaro che in questo momento Regione Toscana non può e non deve assolutamente giocare un ruolo marginale. Lo scopo della mozione era proprio quello di richiamare Regione Toscana, in sinergia naturalmente con il Consiglio, ad un ruolo attivo, e quindi prima di tutto a una maggiore informazione, anche periodica, nei nostri confronti come organo consigliare, proprio di quello che è l'impatto di ciò che sta accadendo sul tessuto socio-economico della Regione Toscana. Quindi questo è sicuramente importante, monitorare ciò che sta accadendo. Dall'altro noi chiediamo però che ci siano anche delle azioni forti di sostegno, prima di tutto al settore delle filiere agroalimentari, che naturalmente in questo periodo stanno soffrendo, pensiamo tutti quanti alla vicenda dell'allevatore delle quote latte. C'è una questione centrale che è l'autosufficienza energetica. Il rapporto IRPET parla chiaro, Regione Toscana ha un 25% di autosufficienza energetica, quindi anche sotto questo aspetto, sia a livello nazionale ma anche regionale, tanto si può fare, penso alla geotermia, ma penso anche alle misure sull'agrifotovoltaico, che sicuramente possono favorire, a livello anche del settore agricolo, ma diciamo l'autosufficienza. Dall'altro lato la questione dei distretti industriali dell'energia, quindi la partita delle comunità energetiche che questa Regione deve giocare ancora, magari con una proposta di legge ad hoc sulla quale stiamo anche lavorando. Dall'altro la questione occupazione, lavoro, impresa, sostegno al sistema, sono elementi essenziali. Riuscire a lavorare sul fronte delle politiche attive e quindi a sfruttare anche tutto il programma delle garanzie occupabilità dei lavoratori, crediamo che sia un tassello primario. E' chiaro che tutti questi aspetti devono lavorare in modo sinergico, con una programmazione e con una visione. La mozione, così come è stata presentata in rivista, pare essere una mozione un po' contenitore, cerca di attraversare un po' tutti gli argomenti che possono essere toccati, investiti dall'attuale conflitto in corso. Abbiamo alcune perplessità riguardo alcune argomentazioni che sono state sollevate riguardo l'impatto economico, che in realtà in questo momento viene ben misurato da IRPET. Dobbiamo fare molta attenzione alle speculazioni, sicuramente, specialmente nel campo dell'energia e delle materie prime, e bisogna cercare di capire come recuperare la nostra indipendenza per i prodotti, per i servizi, per le materie, compresa l'energia, che ci servono di più, nell'ottica non soltanto di questo attuale conflitto, ma anche nell'ottica della maggiore prossimità dell'approvvigionamento delle risorse, che è uno dei pilastri che è previsto anche dall'Unione Europea per il prossimo settennato. Significa andare nell'ottica della transizione ecologica, della maggiore resilienza, ma soprattutto da parte dell'indipendenza. Quindi è necessario fare delle valutazioni, ma che siano ben misurabili, per far sì che non ci siano degli allarmismi immotivati e quindi conseguenti magari rialzi di prezzo che sarebbero mere speculazioni. Il Consiglio regionale approva tre mozioni con voto unanime quella del Movimento 5 Stelle, a maggioranza una del PD e una di Italia Viva. Italia Viva per prima si è pronunciata contro la realizzazione di questo intervento nel merito alla localizzazione e all'utilizzo dei fondi del PNRR. Non è sbagliato di per sé migliorare il posizionamento dei carabinieri, fare un intervento importante, ma bisogna decidere dove farlo, come farlo. Passare da 53 mila metri quadrati a 730 mila metri quadrati in un parco come quello di San Rossore è una speculazione edilizia pubblica in un ambiente che deve essere tutelato, promosso e qualificato. Si può condividere dove fare questo intervento, meglio se farlo dove ci sono degli opifici dismessi che possono essere recuperati o dove ci sono dei locali abbandonati, ma sicuramente non in un parco regionale che è famoso nel mondo per il proprio pregio di carattere ambientale. Quindi siamo contrari, bene l'approvazione del nostro atto per dare forza al Presidente Gianni per contrastare questo intervento. Così come è stato presentato questo progetto è apparso immediatamente irragionevole per i volumi e per come è dislocato. Qualcuno parla infatti in aula di un'area marginale del parco ma si tratta in realtà di un'area vocata a agricoltura biologica e soprattutto un importante cuscinetto tra il tessuto sociale ed economico del territorio e il parco, il parco regionale. Il fatto che questa proposta sia stata calata in maniera così improvvisa dall'alto non è piaciuto sicuramente agli abitanti neanche alle istituzioni e la Regione Toscana ha fatto bene a cercare una soluzione alternativa anche perché si andrebbe a parlare di 73 ettari di terreno vergine ad alto valore ambientale a fronte di quello che dovrebbe essere il gancio evocato quindi la bonifica di 5 ettari anche meno di un'ex stazione radar. Quindi l'irragionevolezza anche a fronte dei molti immobili, dei molti edifici abbandonati nei dintorni è evidente. Tanto più che appunto la presenza militare a Pisa è sempre stata forte e ha bisogno di una razionalizzazione anche per quanto riguarda gli spazi che ospitano perché possano davvero sì essere quello che l'Europa anche chiede delle caserne più verdi quindi con un risparmio energetico e con una sostenibilità ambientale maggiore. Questo deve essere fatto e deve essere fatto di concerto col Ministero della Difesa ma appunto di concertazione si parla e non di imposizione. Noi intanto abbiamo detto fin dall'inizio che il Comune di Pisa deve essere coinvolto e deve essere centrale nella discussione tant'è che apprezziamo il fatto che stamattina il Sindaco di Pisa accompagnato anche dall'assessore all'urbanistica e dal Presidente della Prima Commissione siano al tavolo dove si discute di questo intervento insieme alla Regione, insieme all'arma dei Carabinieri quindi è un passaggio che riteniamo essere obbligato ancorché opportuno. Dopodiché pensiamo che proprio coinvolgendo il Comune di Pisa il Sindaco sarà in grado di individuare una proposta che possa tener conto di due interessi principali uno quello di salvaguardare l'ambiente e un intervento che possa essere in qualche modo troppo invasivo in un'area importante come l'area di Coltano dall'altra parte però salvaguardare il fatto che il Comune di Pisa possa ospitare un centro di eccellenza dove saranno appunto convogliati tre reparti di eccellenza fondamentali che sono un orgoglio nazionale quale il Tuscania, quale il GIS e quale il reparto dei Carabinieri Cenofri a Cavallo quindi siamo felicissimi che questi tre importanti reparti possono essere stanziati a Pisa che daranno ulteriore motivo di orgoglio alla nostra città con un intervento che deve sicuramente essere in qualche modo rivisto in qualche modo riallocato o contenuto rispetto al progetto iniziale Noi apprezziamo la presenza e l'impegno e il lavoro dei Carabinieri in Toscana e nella realtà pisana riteniamo però in sintonia con tantissimi di quelli che si sono espressi che questo intervento per l'impatto che produce sul territorio non debba essere realizzato all'interno di un'area protetta e quindi chiediamo tutto l'impegno possibile al nostro Presidente e alle altre istituzioni affinché si adoperno in un confronto con le istituzioni governative per cercare di evitare che vengano occupati questi 73 ettari all'interno del Parco di San Rossore per questa realizzazione Io credo che questo potrà riuscire anche perché abbiamo molto apprezzato la disponibilità dell'Arma dei Carabinieri che ha detto di non voler comunque realizzare questo tipo di intervento contro le comunità locali Apprezzamento per l'attività svolta nel 2021 dal difensore civico regionale Sandro Vannini è quanto ha espresso l'Aula di Palazzo del Pegaso Il nostro voto è stato condizionato proprio dalle dimissioni del difensore civico dottor Sandro Vannini consideriamo che si tratta di una figura strategica anche per l'ordinamento statutario regionale un momento peraltro delicato perché come dimostra l'amento delle istanze trattate dal difensore ma anche le più diverse materie da lui trattate potrei dire in materia di sanità come siamo stati in questa situazione di pandemia e mia trattate di istanti al difensore civico lasciare in questo momento crea oggettivamente delle difficoltà Attraverso la decisione del Presidente ha ottenuto un altro incarico e si auspica la pronta sostituzione del difensore civico perché lo riteniamo all'interno della politica regionale toscana in accordo con tutti i livelli nazionali vogliamo ricordare che il difensore civico è una figura prevista alla legislazione nazionale e presente in tutte le regioni in Toscana è una figura che c'è da oltre 30 anni e ha una sua grande autorità anche verso tutti gli altri colleghi delle altre regioni proprio per la struttura che la regione toscana e il Consiglio regionale della Toscana hanno saputo creare L'avventura del dottor Vannini come difensore civico si chiude forse in una maniera ancora peggiore rispetto a come si era profilata durante gli anni difensore civico non abbiamo capito se si è dimesso se lo ha dimesso il Presidente del Consiglio regionale perché si è accorto di un'incompatibilità fatto sta che a un certo punto il dottor Vannini da difensore civico si ricorda probabilmente anche in virtù della sua vecchia militanza politica fatto per 14 anni il Consigliere Comunale prima dei DS e poi del PD a Siena si ricorda della sua vecchia appartenenza politica del suo vecchio patentino di giornalista e decide di candidarsi e vince la selezione pubblica per andare a fare il direttore dell'organo di informazione della Giunta regionale a me risulta che quando si fa parte di un organo di diritto privato o finanziato dall'ente pubblico che poi ti conferisce un incarico prima di accettare un incarico o si sta a due anni fermi e non è il suo caso o si spiegano le cause di incompatibilità e quindi sono curioso perché ancora non abbiamo visto gli atti di capire come il dottor Vannini se si è potuto candidare al concorso per andare a fare il direttore di Toscana Notizie presentazione del libro Un mondo aperto per una buona politica sulla lettera enciclica Fratelli Tutti con gli autori Luciano Romano Vannino Chiti e Paolo Corsini Il titolo dato che prende in buona parte quando riportata la lettera enciclica Fratelli Tutti un mondo aperto sta appunto a significare la possibilità si lascia passare questa espressione di una globalizzazione in positivo di valore Il Papa dice che nel tempo delle bombe nucleari non c'è più guerra giusta e quindi è molto da riflettere c'è il tema della fraternità c'è il tema di occuparsi degli altri secondo me ci sono delle impostazioni su cui dobbiamo riflettere anche politicamente perché sono molto sollecitatrici Bisogna arrivare ben attrezzati a quello che è un futuro che ci porterà sempre nuovi problemi sia poi in questi giorni di fronte a questa tragedia della guerra Noi che abbiamo commentato questo libro adesso abbiamo molto da trovare come un fil rouge nel libro per capire cosa fare per aprire il mondo invece di chiuderlo e per fare in modo che incominci una solidarietà che forse non è subito fraternità ma va in quel senso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti